non non la sua ma 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 che strano le luci sono luci al central park e non ho bisogno dei miei sessi ragno per cagare che qualcosa non va oh oh forse il municipio si è dimenticato di fare la puttana della luce questo però è troppo per tutte le ragnatene e quello che cos'è il ragazzo misterioso se non vedessi con i miei cazzo gli occhi non ci crederei e neanche il vecchio jameson se non scopo una foto meglio che mi nasconda chissà se i pompieri pompieri hanno bisogno del cazzo di qualcuno che ha i poteri di un ragno e ora occupiamoci di quello stronzo che razza di scherzo di merda è questo parker andiamo un mostro che divora un mostro mi credo signor glosmier quel mostro esiste davvero parapoli è vero parker io ti pago perchè faccia poppini quindi poche frattole è giusto verso peter giusto mi porta delle f*** senz'altro tratte da qualche film dell'orrore parla jensen parla al porco dio parla jensen matto sei benissimo matto il vecchio jameson starà facendo la vecchia fornace suppuro ma se devo scopare un mostro mangia metallo sarà meglio che mi prepari ecco così dovrebbe andare ora non mi resta che scopare quella vecchia fornace si vuole giuro che era proprio un ti vado a scherzole waaaa aaaaa 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 niente di nuovo sulle tette riguardo a quel mostro beh questo lo vedo anch'io non è arrivato nessun porco beh forse dopo pranzo fa la siesta lello ma che cazzo dici le è il momento di staccare è il momento di fare sesso parco dio ok sono pronto ad affrontarlo che cosa fa parker ecco eh eh stavo dicendo mio caro signor jameson peter parker non accorre sul posto perchè lo dice lei ma perchè l'ha deciso peter parker ritornate qui tutti e due il mostro si è rimesso in azione si sta dirigendo verso il porto ok ma cosa si festeggia aaaaaaaaa va bene vecchio stronzo è tempo di curare a dovere la tua insaziabile fame di cazzo avanti a tutta forza a strorza fossi così sconvolto dal fatto che è stato l'uomo ragno l'eroe dell'operazione non avrei niente in contrario a farmi un pompino beh signor jameson potrebbe intitolarlo l'uomo ragno fan curva aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sos a linzo se n'è andato di nuovo forse voleva dirmi scopa il vecchio jameson eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa io vi cercherò vi troverò e vi ucciderò se n'è so Grazie a tutti